segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te fare le cose secondo lei giorgia meloni è più abile a fare oa comunicare le cose ma è un'impostazione grottesca direi comica molto molto abile del racconto sempre un po vittimista mi criticano ma io invece hanno occupato militarmente tre televisioni pubbliche ne hanno tre private non fanno altro dalla mattina alla sera che fare propaganda rete unificate nel modo più becero c'è in questo paese una stampa tradizionalmente molto sensibile al governo e al potere giorgia meloni viene dipinta come churchill in un modo direi caricaturale grottesco e ci viene a dire che non fa abbastanza comunicazione ora gli italiani possono essere un po ingenui ma non sono sciocchi chiunque capisce che questo governo si regge soprattutto per la potenza di fuoco di una comunicazione martellante per l'occupazione dei posti sistematica della comunicazione ora anche della cultura c'è un tentativo di controllare dall'alto il discorso pubblico ed è un tentativo che purtroppo in gran parte riesce e questo non vuol dire solo enfatizzare molte le cose che fanno ma anche fare sparire altri grossi problemi che ci sono pochi giorni fa all'università di torino la polizia ha caricato negli studenti i professori una professoressa ordinaria di diritto costituzionale alessandra argostino è finita in ospedale con una diagnosi di sette giorni un trauma cranico una carica immotivata si sono caricati degli studenti antifascisti pacifici a torino a torino nell'università ora in una democrazia occidentale quando succedono queste cose dovrebbero essere al centro del discorso pubblico della comunicazione invece c'è un sistema molto molto efficace altro che non comunicò abbastanza comunica moltissimo e fa sparire anche quello che non le fa piacere luca io si comunica tantissimo tutti anche il governo di giorgia meloni perché in questi giorni abbiamo anche sentito giorgia meloni lamentarsi perché ha detto la mia vita privata è tutta in piazza e in realtà poi abbiamo letto autobiografie visto foto post eccetera eccetera grazie a tutti